Bastano poche gocce di pioggia e questa salita diventa devastante per gli autotrasportatori che si trovano a transitare dal ponte Guglielmo-Lera. La pendenza elevata e l'asfalto viscido causano spesso la rottura dell'impianto di trasmissione dei mezzi pesanti. E sono tanti, tiri e camion, che questa salita devono comunque affrontarla per raggiungere le attività di piano di Coreglia e la cartiera di ponte Allagna. Adesso però una soluzione sembra portata di mano. A breve, grazie ai finanziamenti di 520.000 euro della regione toscana e di 80.000 euro della provincia di Lucca, verrà infatti realizzato un nuovo accesso più semplice e più sicuro. L'annuncio è stato dato dal consigliere regionale Stefano Baccelli, presidente della IV Commissione Infrastrutture e Mobilità della Regione, nel corso di un incontro con gli amministratori e gli imprenditori interessati all'opera. Questo intervento darà più sicurezza agli automobilisti, ma soprattutto si eviteranno i ripetuti guasti meccanici e mezzi pesanti, soprattutto nelle giornate piovose, quando l'asfalto diventa scivoloso. Due aspetti importanti da sottolineare, quello della sicurezza su tutti, quindi migliorare l'incrocio dell'intersezione con il ponte Guglielmo Lera e la strada provinciale e la nuova pendenza che verrà creata, ci volerà l'ingresso dei mezzi pesanti alle nostre zone artigianali e industriali.